Mettere a fuoco un argomento difficile ma realizzabile e soprattutto fondamentale nella sfera sociale odierna. Dimostrare che la sinergia tra differenti professionalità, magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri ed insegnanti può riuscire ad abbattere i muri dell'indifferenza ed arginare e prevenire tutte le forme del disagio giovanile per aiutare, guidare e formare il senso di responsabilità e di coscienza critica degli adolescenti. Questo il tema del convegno che si è tenuto questa mattina nella sala consigliare del comune di Pescara organizzato dall'AMI Abruzzo, avvocati matrimonialisti italiani. L'AMI, l'ABI Abruzzo non è altro che una costola, una sezione distrettuale territoriale dell'AMI nazionale che è un'associazione di diritto di famiglia per la tutela delle persone, della famiglia e dei minori che è aperta l'adesione non soltanto degli avvocati iscritti all'albo ma anche di altre differenti professionalità quindi gli insegnanti, i magistrati, i pedagogisti, gli psicologi, psichiatri e quant'altro. Ed è proprio in quest'ottica che oggi abbiamo organizzato questo convegno che vede la problematica purtroppo a sta estringente e destinata anche a proseguire nel futuro del disagio giovanile. La tematica oggi infatti verrà trattata in accordo con questo carattere multidisciplinare che è caratteristico dell'AMI da più personalità. È fuori di dubbio che i giovani di oggi rispetto al passato siano influenzati in peius da molti fattori negativi che ne fanno accrescere questo disagio. Non ultimo purtroppo devo anche menzionare il covid, la pandemia del covid-19 che purtroppo stiamo ancora attraversando che sicuramente ha portato a un isolamento forzato dei nostri ragazzi, dei nostri adolescenti e quindi a un allontanamento di questi adolescenti dalla socialità in genere con il proliferare di varie forme di patologie anche di tipo psicologico e psichiatrico e quindi diciamo che questi sono gli argomenti del nostro convegno.